Grazie Grazie Bravo 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 Bravissima Come mai cammina l'Alice Bravo Bravo Bravissimo Bravo Bravi tutti Bravissimi Bravo Vieni Ascoltami Fammi adesso Bravo Bravo Bravi tutti Ecco Mauro Togliolo Ha ragione lui Non sbaglia mai lui Ecco tutti gli arrivi, bravi ragazzi Bravissimi tutti Giano 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 La maggior parte Questi che arrivano adesso Questi hanno fatto il ridotto sicura Bravi Anche quella ragazza, quella signora che sta arrivando Sicuramente no Sì è fatta il ridotto 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 Bravo Bravo Bravi bravi Dura dina Prima donna classificata Bravo E questo è proprio bravo E questo è proprio bravo Bravo Eugenia Ecco la seconda classificata Brava Brava Terza donna Grazie E questo è proprio bravo Ce la facciamo Avanti Avanti Bravo Bravo Quarta, quinta. Quarta donna, brava. Quarta e quinta. Quinta. Quinta è questa. Questa è che abbia essa mondiale da questa. Proverò la tua. E' dura? E' dura? E' dura. E' dura. E' dura. Ma sono loro? Sono loro che sono loro. Mi dà ci mette un minuto. E' dura. E' dura. E' dura. E' dura in qui, per favore. Bravo. Grazie a tutti.